Favorire i pagamenti elettronici potrebbe ridurre considerevolmente i tentativi di rapina. È il pensiero del commissario liquidatore Mirko Apa che torna a parlare della sicurezza al mercato ortofrutticolo di Paganino Cera dopo l'ennesimo tentativo di rapina e danni di uno dei numerosi acquirenti della struttura. Stiamo riscontrando che purtroppo negli ultimi tempi ci sono, accadono questi episodi. Tuttavia, parlo per quel che riguarda la struttura mercatale, io voglio rappresentare che comunque ci sono, c'è un sistema di telecamere a circuito chiuso posto sulle barriere d'uscita e sulle barriere d'ingresso per cui voglio tranquillizzare gli operatori oltre che la presenza di un servizio di guardiania presente H24, 7 giorni su 7, che presidi all'ingresso del mercato. Invece, relativamente all'episodio in sé, bisogna rappresentare che io come mercato, insieme al presidente del Cogomo, diverso tempo fa avevamo individuato un istituto di credito bancario nella sede della quale ci siamo recati qualche tempo fa, proprio con il presidente del Cogomo, per valutare la possibilità di poter installare una sede secondaria di un istituto finanziario e bancario. Io più volte ho fatto richiesta e ho avuto contatti anche con una multinazionale a carattere territoriale che anche era interessata, però poi in fin dei conti non si è raggiunto più il risultato, ma forse anche per l'avvento del Covid. E quindi a questo punto io utilizzo proprio la vostra struttura, quindi la vostra televisione, per fare un appello a chiunque istituto bancario abbia interesse ad aprire anche uno sportello all'interno del mercato, comunque nel circondario, renderebbe questa cosa l'attività meno rischiosa. Io non più tardi di un anno fa ho implementato il sistema di pagamento con moneta elettronica, per cui anche a questo punto colgo l'occasione per fare un ulteriore appello e quindi invito ad implementare il pagamento con moneta elettronica, e quindi mi riferisco a carte di credito, a Bancomat, carte di debito, piuttosto che assegno bonifici. Certamente non si risolverebbe il problema, tuttavia renderebbe la circolazione del contante meno presente e quindi potrebbe in qualche maniera scongiurare questi episodi criminosi. Grazie a tutti.